Buonasera a tutti, aspettiamo a Cadrivino tutti i giornalisti, le più grandi testate dell'intera nazione veneta, sto parlando del Bruseguin, del Vigo, del Cadore, del Tonon, del Laguna Moderna, del Zonin, del Peoccio, oggi, insomma, tutte firme illustri che non sono ancora arrivate. Cosa? Di me? L'unico che è arrivato è Tosato? Dove sei? Ciao Tosato, eccolo lì, Tosato. Ah, il giornalista sarà. Tosato, ti contento che ti ho nominato? Tosato, come ti dovevo chiamare Bob Woodward e Padova? Addirittura. Tosato, per piacere, dai. Una domanda adesso? Mattimo va a fare no. Una domanda? Cosa a me volevi chiedere? Vabbè, sentiamo. Cosa a te me volevi domandare? Volevo sapere se è vero che nella Lega a Giorgetti e Salvini non si parlano. Ah, politica, certo, è una domanda giusta. Tosato? Fipo, perché lui si chiama Fipo, Tosato. Ma chi se ne frega? Risponda alla domanda. Bodin, Tosato, sei stato il primo ad arrivare? È il primo ad arrivare, è il primo a rompere i bigoli. Ma faccio una domanda, faccio una domanda. Allora, mentre tolgo, mentre aspettiamo... Scusa, tolgo, te puoi accendere questa lusse qua, per favore, no? Perché me vedo l'incarnato smorto. E così c'è meglio. Sì, sì. Vabbè. Sto meglio così, no? Cosa sta facendo? Ho avuto il Covid? Sì, ha avuto il Covid, è vero. Vabbè, ve dico, ho avuto il Covid, che a scopo divulgativo ve illustro la Nama Samsi, la Sanamanimi. Sarà l'Anamnesi. Sarà l'Anamnesi. No, che se è il ceppo latino che me rema contro, te dico. Il ceppo latino, vabbè. Io voglio dire i sintomi del Covid che sono... Va bene, se ce li dica, li sappiamo. Vabbè, il brusor de goa, che non c'è poco, eh. Perché non c'è stato un brusor de goa? Vabbè, tanto. Vabbè, questo brusor che... Vabbè, ha avuto un po' di mal di goa. Ma ragioniamoci a questo brusor de goa. Poi tossa sacca sacca. Ma soprattutto, mi vuol dire, tanto scolo nasale. Scolo nasale, è vero, succede. Ma tanto, eh. Vabbè, tanto. Guardate che, credetemi, il problema del scolo nasale è che quando bevi ho spris e ho allungo. No! Ragioniamoci sopra. Comunque, sempre in tema da Covid. Sì, tanto aspettiamo i giornalisti. Dunque, tengo a precisare che il vaccino non sia obbligatorio. Ah, ecco. Cioè, chi vuol farselo, se lo farselo. Chi non vuol farselo, non se lo farselo. Non se lo farselo. Chi lo voleva farselo, farselo dopo. Se lo farserà, forse. E quindi fino a qui. Grazie.